A tempo di record aperto stamani il cantiere per l'avvio dei lavori dopo la frana del costone al viale della Vittoria d'Agrigento avvenuta nove giorni fa. E l'impresa Salamone di Aragona ad eseguire le opere di messa in sicurezza. Oggi la forma consegna dell'area del costone crollato da parte del sindaco del prefetto di Agrigento, Marco Zambuto e Nicola Diomede. La ditta, assieme ai tecnici della protezione civile, si occuperà di posizionare clinometri sul palazzo colpito dai massi per monitorare il pendio e successivamente passare alla messa in sicurezza del palazzo stesso e del costone. Dunque l'unità di crisi, istituita poche ore dopo la frana, passa le vie di fatto dopo i continui sopralluoghi e monitoraggi. Rimane sempre il dramma delle 63 famiglie, sgomberate la chiusura forzata di diverse attività commerciali, un laboratorio di analisi cliniche e alcuni studi professionali. La giunta regionale ha già deliberato per le opere provvisionali 1.150.000 euro. Intanto sulla frana del Viale, l'ennesima, in una città martoriata da crolli e dissesti idrogeologici, interviene il santo patrono di Agrigento, San Gerlando, che ancora una volta ha fatto il miracolo. Una simbolica lettera scritta da Gian Paolo Riolo dell'Azione Cattolica, nella quale il santo si rivolge ai suoi concittadini, dicendosi rattristato per l'evento franoso e che mi sta facendo riflettere sulla bontà dell'opera di evangelizzazione che ormai, quasi mille anni fa, ho compiuto presso di voi. San Giullanno senza danno, San Gerlando difendici dal danno, questo è il modo in cui invocate il mio nome per allontanare da voi sventure dovuti a calamità naturali. Sempre più spesso vi sento invocare il mio nome per ottenere miracoli, ma sappiate che i miracoli sono una cosa seria. E conclude, miei carissimi figli, con grande speranza continuate a chiedere i miracoli e io rivolgo incessantemente prechiere a Dio, perché finalmente io possa dire a voi Agrigentini senza danno.